Mi chiamo Pamela Gori, vivo e lavoro in Italia. Da diversi anni ho aperto una piccola associazione culturale che tratta di arte contemporanea. Quello che ci interessa è rendere questo lavoro e quest'opera come se fosse un essere vivente, quindi un essere organico che si muove. Ed è per questo che ogni volta cambia sembianze a seconda del luogo che lo ospita e che lo adatta. Ogni luogo dove andiamo il Comunius prende un'altra forma perché prendiamo i materiali di quel luogo lì per raccontare anche la storia, per intrecciare la storia di quel luogo, la nostra, e quindi sì, ogni volta è diverso. Qui c'è la volontà di attirare anche un pubblico non proprio abituato al linguaggio del contemporaneo. E fanno benissimo perché è anche l'unico modo che si può avere per poter attirare persone che magari sono curiose ma sono spaventate. Le persone vengano preparate a qualcosa, si rilassano e poi entrano in un luogo espositivo che non è uno spazio, un white cube, ma è un luogo aperto. Dappertutto c'è il vetro, da fuori si può vedere dentro e a me piace tantissimo.